Schumann e Brahms, il maestro e l'allievo, essi sono protagonisti del nostro secondo concerto. Tramite le loro opere faremo un viaggio nel romanticismo tedesco ed in particolare nel repertorio lideristico. Potrete sentire alcuni brani di ispirazione popolaresca, come Zygonerleben di Schumann, ma anche alcuni quartetti vocali considerati vette del repertorio lideristico, come il ciclo, opera 92 di Brahms, non a caso ritenuto uno dei maggiori esempi di fusione tra testo e musica.